Si terrà oggi e domani presso l'ex tabacchificio Centola di Ponte Cagnano-Faiano la festa regionale dell'unità, organizzata dai vertici della Federazione Regionale e Provinciale del Circolo Locale del Partito Democratico. Nell'ambito della due giorni è prevista la partecipazione di esponenti del partito a tutti i livelli. Fra questi il capogruppo alla Camera dei Deputati Ettore Rosato, il Presidente del Partito Matteo Orfini e l'ex Ministro dell'Interno Marco Minniti. Grazie a tutti.